L'aeroporto Cuneo Alpi del Mare, dopo sette anni di procedimenti burocratici, ha finalmente ottenuto la concessione ventennale in regime di gestione totale. E' stato un iter travagliato, oggi però premiato dall'ottimo risultato che il presidente della Camera di Commercio di Cuneo, Ferruccio Dardanello, ha voluto condividere con i tanti personaggi cunesi che hanno creduto nell'infrastruttura e ne hanno sostenuto il difficile percorso. Credo che sia una grande soddisfazione per chi ci ha creduto in tutti questi anni e per chi ha la consapevolezza che senza infrastruttura la competitività sarà una cosa difficile da poter raggiungere. Noi oggi faticosamente siamo riusciti ad averla e credo che si apriranno tante nuove prospettive in questa fase nuova alla quale noi dobbiamo guardare. Questa terra non più ai confini dell'impero ma al centro dell'Europa, una terra vicina al Mediterraneo, vicina ai grandi porti, che ha bisogno anche delle infrastrutture viarie per essere all'altezza dei tempi e avere quindi le opportunità e l'ambizione di poter dare tante risposte, non solo alle 90.000 imprese che operano e che lavorano in provincia di Cuneo, ma a tutti coloro che potranno guardare, io credo, al lavoro dell'imprenditoria per costruirsi anche sopra il proprio futuro. Credo che però in questo momento il risultato raggiunto apra veramente prospettive importanti e quindi aspettiamo con fiducia gli ulteriori passi sia di sistemazione dell'azionariato dell'aeroporto e poi delle nuove prospettive che da questo arriveranno. Del frutto di lavoro di squadra di tante persone a partire dal Camera di Commercio, passando per i comuni di Cuneo, di Saviglia, tutti i soggetti che in questi anni hanno dimostrato a parole e con i fatti di credere in questa infrastruttura, anche quando in realtà il cielo era molto nuvoloso ed era difficile schierarsi da questa parte. La concessione rappresenta per l'aeroporto Cuneo Alpi del Mare un traguardo particolarmente importante per la sua capacità di produrre effetti positivi e insieme al recente inserimento di Cuneo fra gli aeroporti di interesse nazionale, rappresenta il punto di partenza per un progetto ambizioso di consolidamento dello scalo cunese in un'ottica europea. La concessione per vent'anni ci permette di fare quello che è il primo passo necessario, la privatizzazione. La privatizzazione sarà fatta sulla base di un piano strategico che noi abbiamo presentato e discorso con il Ministero dei Trasporti e che prevede sicuramente l'allargamento di Cuneo non solo in termini di aumento del lavoro che già sta facendo, cioè trasporto a passeggeri, ma potersi ampliare ad altre aree e tutto quello che è necessario per mettere una regione, ma direi una zona della regione in grado di competere con il resto. La crisi ha generato una flessione nel trasporto aereo anche il 2013 a livello nazionale si è chiuso con un meno 1,9% in termini di passeggeri trasportati. Noi siamo cresciuti del 23% ma non sarà possibile crescere tutti gli anni del 20%. Stiamo lavorando per consolidare quello che c'è, siamo fiduciosi di poter continuare ad avere il segno più anno per anno in termini di passeggeri che passano sull'aeroporto di Cuneo.